Manca davvero poco alla diciassettesima edizione di Ardesio di Vino. La Proloco di Ardesio, lo staff di Ardesio di Vino e tutti i volontari sono pronti per questo diciassettesimo anno consecutivo dove riusciamo a portare un evento che porta il nome di Ardesio in tutta la valle ma anche oltre i confini della provincia e anche della regione. Ricordiamo come si svolgerà quest'anno l'evento anche per rispettare le norme anti-covid. Nonostante le restrizioni abbiamo fortemente voluto riproporre Ardesio di Vino e quindi ci saranno dei posti limitati. Per partecipare ad Ardesio di Vino bisogna acquistare la prevendita o nei nostri uffici o sul sito di ardesioivino.it. Ricordiamo che le prevendite del sabato sono esaurite e quindi rimane la giornata di domenica 1 agosto. Giornata di domenica che avrà un orario continuato dalle ore 10 di mattina fino alle ore 20 di sera. Anche quest'anno avremo la nuova formula di degustazione, quindi una degustazione da seduti che porta gli appassionati ad avere un rapporto diretto anche con i produttori degli artigiani del gusto. Quanti sono i produttori, gli artigiani del gusto che saranno presenti, da dove provengono? Per la 17esima edizione di Ardesio di Vino saranno oltre 60 i produttori che verranno da tutte le regioni d'Italia e anche dalla Slovenia e dalla Francia. Una novità del 2021 sarà la zona food che viene spostata nell'oratorio di Ardesio dove ci saranno oltre i prodotti tipici anche degli street food per non perdere quindi anche delle proposte per il nostro palato. Non mancano nemmeno quest'anno gli eventi collaterali, ricordiamoli. Sì esatto, Ardesio di Vino parte venerdì 30 luglio con la cena di vina su prenotazione presso l'albergo da Giorgio di Ardesio mentre sabato pomeriggio ci sarà la degustazione d'autore con il seminario Veronelli, anche questa su prenotazione mentre la domenica mattina lo show cooking libero seguito dallo chef Alberto Zanoletti. Per tutto il programma e anche per altre informazioni vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social oppure sul nostro sito ardesio di vino.it